posso chiedere qualcosa sul milan di berlusconi che come lei sa il closing con i cinesi è stato rinviato e lei ha detto che c'è qualcosa di poco chiaro cos'è che non lo dobbiamo chiarire è il tifo e lo sport e il calcio sono l'ultimo dei problemi ovviamente in questo paese però però c'è modo e modo di perdere mi sembra poco dignitoso questo modo di prendere in giro da mesi da anni milioni di tifosi dicendo arriva tizio arriva casio ci compra il tailandese ci compra le squimese ci compra il cinese e poi non c'è mai e poi non c'è mai ma pensa che i cinesi in realtà non ci siano abbiamo preso i cinesi più squattrinati tutta la cina o se no non so dove siano finiti ripeto non è che io non dorma la notte pensando a chi compra il milan però la dignità non ha prezzo e quindi ci si dica chiaramente ci sono o non ci sono travaglio telegrafica ultima battuta il calcio nella politica sul milan ma io ho sempre pensato che il compratore cinese del milan fosse berlusconi al prossimo lifting io non ho mai creduto all'esistenza di nessun cinese berlusconi ha tanti di quei soldi fuori dall'italia che prima o poi troverà qualcuno che li riporta dentro sperando che arrivi un italiano da tifoso spero che arrivi qualcuno a comprarci tre giocatori va bene allora berlusconi è italianissimo a tanti difetti ma sarebbe italiana